Sta per terminare la prima giornata del Fionli Summit, un suo feedback? Sicuramente positivo, come del resto tutti gli anni, infatti siamo orgogliosi di avere l'opportunità di partecipare a questo importante appuntamento annuale che ovviamente ci dà l'opportunità di avere esposizione sul pubblico di consulenti finanziari che guardano con interesse i mercati e soprattutto dai feedback che abbiamo raccolto in questa occasione abbiamo riscontrato parecchio interesse su quali possono essere le strategie più indicate per questo scenario di mercato e per quelli che possono essere i mesi a venire. Consulenti e società Fionli utilizzano molto i replicanti, come vede il futuro della consulenza indipendente nel nostro paese? Sicuramente la consulenza indipendente si sta sviluppando molto, si sta sviluppando anche grazie a quello che è il contesto normativo grazie ovviamente a quelle che sono quanto introdotto dalla Mephi 2 e questo comporta anche un nuovo scenario per quanto attiene alla scelta degli investimenti. Sempre più consulenti cercano nuovi tipi di esposizione tramite i prodotti finanziari e nuovi tipi di esposizione che possano essere utili per affrontare diverse fasi di mercato, soprattutto quella che stiamo vivendo che è una fase che presta per certi versi alcune incertezze, incertezze su quello che può essere il proseguo del mercato americano, incertezze per quanto riguarda il contesto europeo e incertezze geopolitiche legate principalmente alle relazioni tra Cina e Stati Uniti da un punto di vista commerciale. Quindi c'è richiesta di esposizioni, c'è richiesta soprattutto di strategie che possono essere utili per diversificare i portafogli dei clienti e capire come avere anche meno correlazione di quanto avvenuto in passato.